Buongiorno e benvenuti al Tg2000 delle 12, queste le notizie principali di oggi. Accordo raggiunto tra sindacati e Arcelor Mittal, saranno assunti 10.700 lavoratori dell'ex pilva. Vaccini, la maggioranza fa un passo indietro e non corregge la legge, i bambini dei nidi e delle materne per entrare a scuola dovranno essere vaccinati. E a pochi giorni dall'anniversario dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle spunta un video inedito, nuove immagini che mostrano la tragedia in tutta la sua drammaticità. E come avete sentito dai titoli, Arcelor Mittal ha colto le richieste dei sindacati appoggiate dal Ministero del lavoro. I dettagli nel servizio di Marco Bergamaschi. Salgono 10.700 i lavoratori da Sumer subito alla nuova ILVA e la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da Arcelor Mittal ai sindacati che accoglie la loro richiesta appoggiata dal Ministro Di Maio a riferirlo alle stesse sigle confederali. Il testo era la verifica finale da parte dei sindacati che lo stanno rileggendo e li mando. E l'accordo sull'ILVA dopo la trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico andata avanti tutta la notte potrebbe essere chiuso in tarda mattinata. Siamo arrivati a un testo quasi definitivo spiega il segretario generale della UILMA Rocco Palombella spiegando che siamo riusciti a ottenere un numero che secondo noi è importante 10.700 compresi quasi 300 delle affiliate. Non ci sono esuberi prosegue Palombella perché il piano prevederà il completo assorbimento di tutti i lavoratori con il mantenimento di tutti i diritti acquisiti e non ci sarà aggiungere riduzione dei salari. Arcelor Mittal negli ultimi interventi conferma la disponibilità per i 10.700 e tutto quello che avevamo chiesto più o meno si sta concretizzando. L'accordo è fatto, conferma la segretaria generale della FIOM, Francesca Ray David, che annuncia una referenuta ai lavoratori. 10.700 verranno assunti subito, sostanzialmente quelli che ora lavorano negli stabilimenti, ossia tutti quelli non in cassa integrazione. Contemporaneamente parte anche un piano di incentivi alle uscite volontarie e l'azienda a continuare David si è impegnata ad assumere tutti gli altri che restano in carico all'ILVA senza penalizzazioni e con l'articolo 18, migliorato anche il piano ambientale che prosegue, porta all'accelerazione delle coperture dei parchi e a un limite fortissimo delle emissioni. E prosegue anche l'attività del Governo, nel pomeriggio previsto un consiglio dei ministri, all'ordine del giorno le misure economiche ma soprattutto l'approvazione del disegno di legge anticorruzione. Augusto Cantelmi. Una manovra coraggiosa ma senza sfidare l'Europa, dopo Salvini e Di Maio, anche dal Premier Conte, segnali distensivi nei confronti di Bruxelles. Per Palazzo Chigi comunque sarebbe inutile continuare una guerra di nervi con l'Unione destinata a pesanti conseguenze. Allora tanto meglio ammorbidire i toni e trovare un compromesso, come da sempre sostiene il ministro dell'economia Tria. Governo tuttavia che accelera sul disegno di leggi anticorruzione che sarà presente nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Al Ministero i tecnici stanno rimando il testo e lavorano anche sulle eventuali misure premiali per chi collabora, prevedendo anche la non punibilità per chi denuncia atti di corruzione. Presente anche la cosiddetta daspo a vita per i corrotti, ossia il divieto perpetuo a partecipare alle gare di appalto per chi ha condanne superiori ai due anni. Tra le misure previste anche l'estensione della figura dell'agente sotto copertura al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Intanto il Tribunale del Riesame di Genova ha colto il ricorso della procura del capoluogo Ligure sul sequestro dei fondi della Lega dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco Belsito per la maxitruffa da 49 milioni di euro sui rimborsi elettorali. Ennesimo capitolo della questione vaccini obbligatori. Il dietrofront della maggioranza rimette tutto in discussione. I bambini che frequentano nidi e materni non potranno entrare a scuola se non vaccinati. Sentiamo Pierluigi Vito. L'obbligo vaccinale resta. Pare essere questo il nuovo indirizzo della maggioranza che ha presentato a Montecitorio un emendamento per cassare la norma inserita al Senato nel decreto 1000 proroghe che apriva le porte degli asili nido e delle scuole dell'infanzia anche ai bambini non vaccinati. La Camera voterà la settimana prossima ma questa scelta pare segnare un'inversione di rotta rispetto anche alla circolare emanata lo scorso luglio dai ministri dell'istruzione Bussetti e della Salute Grillo in cui veniva consentito ai presidi di ammettere alunni le cui famiglie autocertificassero di essere in regola con le vaccinazioni. Un indirizzo fortemente contestato dai dirigenti scolastici. Noi abbiamo detto che non era possibile affidare ai dirigenti scolastici questa responsabilità di ammettere a scuola bambini con portatori di eventuale rischio di contagio a danno dei immunodepressi per cui non potevamo assumerci questa grande responsabilità di creare problematiche sanitarie a bambini e a famiglie le quali certamente ci avrebbero condotto in tribunale. Dirigenti che non hanno tempo e voglia di fare i gendarmi ma chiedono che si rispetti la legge, quella della Lorenzin, l'unica al momento in vigore. È probabile che Lega e 5 Stelle tornino alla carica con un provvedimento legislativo mirato. Intanto però, senza documenti della ASL che attestino l'avvenuta somministrazione dei 10 vaccini previsti, da 0 a 6 anni non si potrà accedere a nidi e materne, mentre dai 6 ai 16 anni scatteranno sanzioni da 100 a 500 euro. All'opera in questi giorni i carabinieri di NAS che stanno eseguendo ispezioni in scuole a campione per ogni regione, volte a verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie. In alcuni territori un lavoro lungo e complesso. 4.000 sono i casi sotto osservazione nel Lazio, 18.000 nel Veneto, oltre 35.000 a Napoli. 50 migranti sbarcati ad agosto al porto di Catania dalla nave 18 della Guardia Costiera sono scappati dal centro di Rocca di Papa, dove erano stati trasferiti. Sono in corso ulteriori verifiche, fa sapere in una nota alviminale, tutte le persone che si sono allontanate sono maggiorenni che avevano espresso la volontà di chiedere l'asilo politico. La struttura di Rocca di Papa era stata individuata dalla CEI per ospitarli prima di trasferirli in altre diocesi. È stata una scelta imprudente, ma sono persone libere, commenta il cardinale Gualtiero Bassetti. Con loro ha proseguito il presidente della CEI. Abbiamo fatto tutto quello che facciamo con i nostri poveri. Non ho nulla da rimpiangere, ma dopo l'arrivo ha concluso, i tempi per l'accoglienza vera vanno accelerati. Aumento del salario minimo, più investimenti pubblici e più tasse per i ricchi. È la ricetta per una maggiore pace sociale dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ex petroliere, che ha partecipato all'ultima relazione della Commissione Britannica sulla giustizia fiscale. Sentiamo Marco Burini. Che il sistema non funzioni è sotto gli occhi di tutti, ma pochi hanno qualche buona idea per cambiare rotta. Da Londra, una delle capitali finanziarie del globo, ci prova l'Institute for Public Policy Research, un pensatoio di orientamento progressista che ha appena presentato un piano in 73 punti. Forse troppi, ma alcune indicazioni sono concrete e sensate. Coinvolgere i lavoratori nei consigli di amministrazione, aumentare i salari minimi, alzare le tasse su eredità di azionari, maggiori investimenti pubblici, più decentramento. Tutto il contrario di quello che è stato fatto in questi anni. L'attuale modello di capitalismo non funziona, non ha dato risposte alla crisi finanziaria globale del 2008, sostiene il dossier, al quale hanno lavorato diversi specialisti, tra cui il primate della Chiesa d'Inghilterra, Justin Welby, uno che se ne intende. In gioventù ha fatto il manager di un'azienda petrolifera e se c'è qualcosa che caratterizza il suo ministero ecclesiastico, è la lotta contro la povertà. Realizzare insieme prosperità e giustizia è un imperativo, non solo morale, ma economico, dice Welby, quasi a ricordare che il suo non è un sermone astratto, ma un'analisi della realtà. Eccolo, salterà su qualcuno. Un altro prete, come il suo amico vescovo di Roma, che si impiccia di cose non sue, invece di celebrare funzioni e distribuire benedizioni. Come se la giustizia, perché di questo parliamo, non centrasse nulla col Vangelo. Ma in un articolo per il Daily Mail, tabloid molto venduto e molto conservatore, Welby scrive, il 10% più ricco della nazione ha un patrimonio 900 volte più grande del 10% più povero. I giovani sono più poveri dei loro genitori, faticando a trovare lavoro e comprare casa. La maggior parte dei poveri sono famiglie di lavoratori. Non possiamo continuare così. Come cristiano, aggiunge il primate anglicano, parto dall'insegnamento di Gesù. Gli uomini sono tutti uguali e la giustizia ha un'importanza fondamentale nella società. È un tema ricorrente nella Bibbia. A 17 anni di distanza e a pochi giorni dall'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di New York spunta un nuovo video, inquadrature inedite di una tragedia che ha cambiato il corso della storia. Flaminio Festuccia. A 17 anni dall'attentato che ha cambiato il mondo escono queste immagini inedite. L'autore è Mark Laganga, ex operatore della CBS che in quasi 30 minuti di filmato documenta i momenti dopo il crollo della Torre Sud. Nuvole di polvere, l'atmosfera spettrale, il fumo, persone in fughe, soccorritori stravolti che arrancano tra i detriti, cercando ancora qualcuno da salvare. Starai bene, starai bene, dice il vigile del fuoco a questa donna che cammina sotto shock. Poi la ganga entra nella lobby, gli dicono di uscire, che sta per venire giù tutto. Si allontana allora ma continua a riprendere. Di lui vediamo poco più che il bisogno di documentare, di raccontare. Il riflesso in una vetrina, la mano con la fede al dito che si allunga tratti a ripulire l'obiettivo della telecamera dalla polvere. E poi la seconda torre in fiamme e il crollo. Lo scenario dopo il crollo della seconda torre, uomini coperti di polvere che emergono come statue dal caos e un monumento silenzioso e soccorritori che continuano a tornare indietro tra il fumo e le macerie. Delle 2700 vittime di quel giorno, 412 stavano prendendo parte all'operazione di soccorso, 343 erano vigili del fuoco. Ora restiamo all'estero, svolta storica in India. La Corte Suprema sancisce che l'omosessualità non è più un reato penale. Antonio Soviero. Con una storica decisione arrivata dopo settimane di discussione, la Corte Suprema indiana stabilisce che l'omosessualità non è più reato penale e cancella la cosiddetta sezione 377 del codice penale indiano che da 157 anni puniva come offese contro natura i rapporti tra persone dello stesso sesso. È una svolta epocale nel secondo paese più popoloso del mondo. In India finora essere gay poteva costare fino a dieci anni di prigione. Criminalizzare l'omosessualità è irrazionale e incostituzionale, oltre a essere diventato un'arma di persecuzione, ha osservato il presidente del collegio, composto da cinque giudici. Il verdetto arriva dopo anni di battaglia. Nella 2009 l'Alta Corte di Delhi aveva espresso una decisione analoga, poi cancellata dalla Corte Suprema nel 2017. Oggi la svolta che spazza via un tabù che resisteva fin dall'epoca coloniale. Esperimento d'arte nel Mar Morto. Una donna israeliana ha fatto del processo di cristallizzazione del sale la principale tecnica delle sue opere e i risultati sono straordinari. Vediamo nel servizio di Sandra Pizzur. Il lavoro lento e instancabile della natura ha trasformato quest'abito da ballerina in una scultura di cristallo. Emerge così dalle acque del Mar Morto sotto l'occhio attento dell'artista israeliana Sigalit Landau. Affascinata dal processo di cristallizzazione del sale, ne ha fatto la principale tecnica delle sue opere. L'idea era nata per caso, racconta, ma ovunque guardiate qui vedete cristalli e formazioni naturali, accadono spontaneamente un'interazione tra natura e arte. Osservando quel mare, sin dall'infanzia l'artista 49enne ha tratto ispirazione da quelle formazioni cristalline lungo le rive. In quel mare, definito morto per l'alta concentrazione di sale che non rende possibile alcun tipo di vita, ma rende possibile la trasformazione suggestiva di vestiti e altri oggetti in sculture fiabbesche. La prima opera era stata la sposa di sale, un abito nero immerso per due anni nelle acque del bacino, da un abito funereo a un abito bianco simbolo di speranza e di rinascita. La tecnica consiste nel fissare gli oggetti con cornici metalliche, pesi e corde resistenti e poi immergerli in profondità. Il resto lo fa la natura. L'artista di Gerusalemme e il suo team si limitano a monitorare gli oggetti tirati su con una gru e decidere quando è il momento giusto per estrarli. I tempi variano molto, dipende dal calore e dai materiali. Il tutù della ballerina, non più leggiadro ma di ben 200 chili, sarà esposto a livello internazionale. Altri oggetti man mano riempiranno la collezione e in cantiere c'è anche un libro sul progetto. Bisogna riconoscersi peccatori senza imparare ad accusare se stessi. Non si può camminare nella vita cristiana, è il cuore del messaggio di Papa Francesco espresso oggi nell'Omelia della messa a casa Santa Marta commentando l'episodio della pesca miracolosa di Pietro. Il Papa ha sottolineato che riconoscersi peccatori appunto è il passo decisivo che Pietro compie sulla strada di discepolato da discepolo di Gesù accusando se stesso. Questo è anche il primo passo di ognuno di noi ha proseguito se si vuole andare nella vita spirituale, nella vita di Gesù. Accusare se stessi non è facile ma vogliamo servire Gesù. Se vogliamo servire Gesù dobbiamo fare questo perché senza accusare se stessi non si può camminare nella vita cristiana. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. A seguire vi ricordo lo speciale effetto notte con Fabio Falzone e con tutte le novità dal Festival del Cinema di Venezia. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.